Da Cascia, passando per Norcia, sede del ritiro del Foggia, sono in compagnia di Cristian Negnelli, centrocampista della squadra Dauna. Ciao Cristian. Ciao, buongiorno. Allora Cristian, la prima domanda che ti faccio naturalmente non può che riguardare la tua squadra, tanto lavoro, mister De Zerbi, vi sta torchiando a dovere? Sì, beh, già da un po' che siamo in ritiro, siamo partiti in largo anticipo proprio perché il mister voleva iniziare presto per iniziare un po' quello che abbiamo lasciato, per cui stiamo lavorando bene, stiamo lavorando forte, come si fa di solito il ritiro, anche con qualche amichevole andata già a buon fine, per cui il lavoro sta andando bene. Mi auguro che possa terminare la grande. Quali sono i vostri obiettivi stagionali? È chiaro che come obiettivi Foggia non si parla mai di obiettivi scontati e semplici, è sicuramente una piazza dove merita tanto, l'anno scorso per poco ci siamo giocati qualcosa di importante, per cui quest'anno sicuramente vogliamo migliorare e continuare quello che abbiamo lasciato. Ce la metteremo tutta, la società in primis e noi insieme ai tifosi tutti quanti insieme per raggiungere degli obiettivi importanti. È chiaro che l'avete visto l'anno scorso, il campionato non è affatto semplice, è lungo e ci vorrà tanto lavoro e dedizione. Ma ritiene a tuo parere che già l'anno scorso forse il Foggia poteva fare qualcosa in più, c'è un po' di rammarico sotto questo aspetto? Sì, di fatti è chiaro che dopo un anno trascorso insieme non riesco a capire se sono più rammaricato o magari anche più soddisfatto, perché comunque si è fatto qualcosa di importante anche di inaspettato, per cui l'anno scorso si è espresso un buon gioco, i risultati sono arrivati a fase alterna e quest'anno speriamo proprio che con questo bagaglio di esperienza di limare quelle che sono state le lagune, portare più vittorie in seguito perché poi alla fine i punti persi non te li ritrovi a fine campionato. Tu sei un ex della Salernitana, poi ti farò magari qualche domanda sul passato, però ti chiedo proprio in relazione alla squadra Granata, voi l'avete affrontata l'anno scorso due volte e l'avete messa molto in difficoltà, soprattutto allo Stadia Rechi, in quell'occasione la Salernitana adottava un modulo speculare al vostro che era il 433. Considerando che anche quest'anno la Salernitana adotta il 433, ritieni, ecco naturalmente ha già una base, che è quella dell'anno scorso, ritieni che possa proseguire in questo modulo o magari ritieni che quei giocatori magari debbano utilizzare un modulo diverso? Ti faccio una domanda un po' da mister. No, beh, intanto la Salernitana rispetto al Foggia l'anno scorso è un budget totalmente diverso, per cui ha meritato ampiamente la vittoria del campionato, ha meritato quei punti che ha ottenuto sul campo, per cui, ripeto, giocatori importanti, soprattutto anche nel mercato di gennaio, la società si è fatta sentire. Era un 433 ovviamente fatto apposta per la squadra, giocatori di fascia bravi, in mezzo al campo grossi palleggiatori, per cui, insomma, io penso che il 433 è uno dei moduli più belli e propositivi, si è fatto bene. È chiaro che, insomma, ripeto, non sono io l'allenatore, però io penso che la Salernitana scorso ha fatto bene e può ripetersi ancora quest'anno. In quel 433 c'era Khalil, che è radiomercato da vicinissimo al Foggia, ti farebbe piacere avere il fantasista brasiliano in rosa, ritieni che possa essere un valore aggiunto, soprattutto in Lega Pro? Beh, voglio dire, penso proprio di sì. Innanzitutto sarebbe uno spreco averlo in Serie B e utilizzarlo poco, per cui l'anno scorso Khalil si è espresso alla grande, ripeto, in una rosa competitiva, per lui era stato anche facile. Al momento, io, ripeto, mi farebbe piacere, però non ci penso perché stiamo ancora perfezionando la rosa e sono arrivati giocatori importanti che, ti ripeto, sono venuti a completare questo percorso che abbiamo iniziato dall'anno scorso. Giocatori importanti, se la società era opportuno muoversi ancora per il centro avanti, ben venga, perché, ripeto, quest'anno vogliamo raggiungere obiettivi importanti e abbiamo bisogno di giocatori importanti. Ma secondo te Khalil è più un falso 9 di un 4-3 o un esterno d'attacco? No, lo vedrei più come un falso 9, è un giocatore dotato di una grossa fisicità e con un'ottima tecnica, per cui nel gioco nostro, nel gioco di un 4-3, dove è propositivo e dove si cerca di giocare la palla, penso che sia un giocatore, un top player, per cui, ripeto, l'ha dimostrato l'anno scorso e sarebbe un peccato, magari, se la Sanitana potesse utilizzarlo poco, per cui sarebbe più opportuno farlo giocare in una situazione, in una piazza, dove merita e dove può esprimersi alla grande. Due battute finali, una che ti riguarda personalmente, una invece sulla tua esperienza pregressa a Salerno. Il primo pensiero è questo, tu hai fatto una buona carriera, però diciamo che si riteneva che tu in passato potessi addirittura aspirare a qualcosa in più, alla Serie A o quant'altro. Hai un po' di rammarico sotto questo aspetto? No, il rammarico non fa parte del mio carattere. Quello che ho fatto lo rifarei, è chiaro che il calcio bisogna avere anche quel pizzico di fortuna, quel pizzico di determinazione quando ci vuole. Forse nel periodo mio giovane è venuta a mancare questa, è una di queste due componenti, però sono contento, se oggi sono quello che sono è grazie anche al mio passato, per cui non rinnego niente, non sono ammaricato di niente, anzi oggi sono contento perché questo è il quarto anno che do il mio contributo alla mia città e voglio farlo ancora per tanto tempo, per cui mi auguro di raggiungere obiettivi importanti con il mio Foggia e più contento di così non potrei essere. Ultima battuta, un tuo ricordo sulla tua esperienza salernitana in passato? Ma ricordi positivi ne ho pochi, perché Salerno è stato per me sempre un sogno. Ero giovane, purtroppo a Salernitana quell'anno non facevamo un grosso campionato, poi lo stadio era a mezzo vuoto per via dell'inagibilità, per cui non ricordo una grossa esperienza, se non formativa per me, ripeto, essendo giovane piazze come Salerno ti formano, per quello ti dico oggi mi porto anche come bagaglio di esperienza a Salerno, per me è stato importante. Grazie. Grazie a te.